A quanto pare, la Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato di arresto contro Putin. Ecco il momento dell'annuncio. Successivamente, i giornali di tutto il mondo hanno riportato la notizia. Ovviamente anche i giornali italiani non hanno perso tempo, ma chi ha deciso di emettere il mandato di arresto per Putin? Ve lo dico io, è stato questo signore, di nome Karim Ahmad Khan, che è il procuratore capo della Corte Penale Internazionale. Karim Ahmad Khan ha un fratello che si chiama Imran Ahmad Khan. È stato un parlamentare inglese del partito Tory. Ecco la sua foto. Vi dico che questo signore è proprio una brava personcina. È stato perfino incarcerato. Motivo? Ha aggredito sessualmente un ragazzo di 15 anni nel 2008. A seguito del processo è stato condannato per violenza sessuale su un minore. È stato incarcerato per 18 mesi. Questa notizia è stata diffusa dal giornale inglese The Guardian ed è anche riportata su Wikipedia. Meditate gente. Meditate. Dimenticavo. Censuratemi anche questo video.